Svuota spesa da Conad Allora, vediamo un po' Con tre buste abbastanza grandi ho speso 58,23 euro Quindi, non male ma... Vediamo che cosa ho preso Ho preso tre sfoglie che servono sempre Poi, ricotta Vari tipi di formaggio Ho preso dell'asiago, della toma di lanzo E delle menta al svizzero Poi, uova Solitamente io le prendo dal contadino al mercato Però mi servono, quindi le ho dovute comprare E in genere, acquisto le fantolino Poi, il cocco rapè Cocco grattugiato Le mozzarelline Fior di latte Besciamella E del salame Milano Che ho preso da tenere così Da avere come scorta, diciamo Poi, queste sono le campanelline della Disney Di Conad Che ti danno ogni 15 euro di spesa Io me ne sono fatta dare una Giusto così per vedere un po' che cosa trovo E poi perché 50 centesimi Per ogni campanella Vanno in beneficenza al Sant'Anna Poi Ho preso dell'affettato Prosciutto cotto E speck Ho preso Questi ravioli di Giovanni Rana Ai porcini Una bottiglia di vino Rigorosamente barbara d'asti Queste non possono mai mancare Delle arance Anche qui solitamente frutta e verdura Le acquisto al mercato Però mi servivano delle arance Quindi Le ho prese così Della scamorza fumicata Una pera Anche questa mi serviva Poi vedrete più avanti per cosa Poi Terza bussa Della sfoglia per lasagne Poi pasta gogo Ho preso Queste penne rigate Mezze maniche rigate Bucatini La farina Zero zero Questa crema al pistacchio Non l'ho mai provata Proviamola Con qualche costato Speriamo che sia buona Dello zucchero Poi farina di riso E della pastina Per cui farfallina all'uovo Questa è la mia spesa Con 58 euro Direi che ho preso abbastanza Anche se Sono comunque tanti E niente Vi faccio vedere poi Cosa combinerò Con questi ingredienti Cosa combinerò